Una variante della statale Valsugana a est del centro abitato di Rosà, ai confini con Cassola. Se ne parla da tanto tempo, ma fino a oggi se ne è parlato e basta. Ma qualcosa potrebbe essere cambiato, lo denuncia l'associazione Aria, che ha raccolto nei giorni scorsi segnalazioni di residenti nelle campagne a est dell'abitato rosatese riguardanti la presenza di tecnici con tanto di planimetrie e strumentazioni. Questi sarebbero entrati nei terreni e avrebbero dichiarato di essere incaricati di eseguire rilievi archeologici in zona mostrando una mappa con il progetto di una nuova strada, ovvero la tanto discussa variante alla statale 47. Queste visite sarebbero proseguite anche nei giorni successivi e i cittadini si sono rivolte al comune, che in un incontro di qualche giorno fa ha seccamente smentito di essere a conoscenza di progetti relativi alla costruzione della bretella. Questo dettaglio viene confermato dal vice sindaco Paolo Bordignon, che per anni da sindaco ha seguito tutte le vicende relative alla statale, ed è stato confermato anche dall'attuale sindaca Elena Mezzalira, in una richiesta di fornitura di una lista di enti fornitori di servizi e di gestori vari, inoltrata da una società che collabora con Anas nella progettazione di questa variante all'arteria. Anzi, il 16 gennaio scorso, proprio la mezzalira, assieme al sindaco di Tezze Luigi Pellanda e a quello di Cittadella Luca Pierobon, ha scritto all'Anas e alla Regione, chiedendo una documentazione sul progetto risalente ancora al 2022. Insomma, dopo anni di silenzi e tira e molla, si potrebbe essere arrivati a una soluzione definitiva del problema del passaggio della statale Valsugana nelle zone densamente urbanizzate. Peccato che, almeno a quanto si apprende da cittadini e amministratori, nessuno l'abbia detto ai diretti interessati.